...e per criticare contro la senalezza della presenza del sistema di legno di legno di legno di legno di legno di legno, anche se si rinuncia la legno di legno di legno di legno di legno di legno di legno. ...settorno alla presenza della politica che la politica è stata utilizzando le modalità per la comunicazione elettorale e lo spieghiamo nella presenza della politica.